Musica 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 e anche il Sandran Paviron dal Bosch e Zata e tutta la sua famiglia, salutam tutti quanti in mano. Grazie mille. Grazie mille. Hanno fatto spese alle famiglie, specialmente quelli più numerosi, i negozi che hanno scredito e i mani di fabbriche perché due più due hanno fatto quattro. Allora, e chi era la colpa? Ma chi era la colpa, Polonia? La colpa è tua, mia e anche Sgurgegel. Che in questi ultimi, invece che lavorare la campagna, avevano dovuto guidare l'Italia e capire adesso. Ma papà, non so che entrami a noi, ma sappiamo anche di politica. Se per quale, a niancarama, anche avevamo avuto di gran politica. Adesso, gli italiani, hanno avuto una granetta nuova per provare a spazzarmi la campagna. Ma stavamo a vedere come va a finire. Ma papà, ma sappiamo che i tempi erano in Maduro. Come dice il proverbio, figo e blu ha la sua stagione, figo e meloni ha le loro stagioni. E sarà come diteve, ma me avevo poca fiducia. Viste che stiamo passando, da via del Gesù e poi via delle botteghe oscure e adesso via della scroffa. Ma dai, Sandro, lascia perdere i nostri amministratori, il dramma che loro è in apposta. Loro è in apposta. Denti a tutti, è per le novità, Maduro. Ma, dà un ca, isti ultimi mesi, ha sogno a Maduro solo due volte. E poi, la godea molto, perché non si aveva mai in due poggiare la carrozza. E mi ha po' spiegare che era per via che chi erano andati a girare un figlio. E per fare il posto, hanno ingabbiato tutto il centro storico e mondo, con tutti i destressi bianchi e rassi, che hanno scegliato a partire da nessuno aperto. L'è vero, ha una deda anche a me in fila, come tanto buonese, per fare la comparsa. Dì, io, quando la regista non mi avessi, l'ha detto che assomigliavo a Elisabeth Taylor. C'è, proprio che c'è, l'Elisabeth Taylor della Padania. Oh, per l'amore. Comunque, me ha capito che per i mutinesi si è stato un sacrificio. Ma, blimmate, il ritorno d'immagine, come dice il nostro sindaco. Oh, hanno mai avuto la volta tutta, eh? Avere in la propria città una truppa cinematografica. Ma, vabbè, Polonia, che ne ha preso una novità, eh? Le diane che i nostri ministradori fanno dal cinema. Oh, con cui mi chiamano adesso del fizio. Che vuol poter dire che i Disney fanno i lavori e poi i fanno solo finti fanno i lavori. Mentre, che se muzzarevi, invece, portare a moda una truppa cinematografica, che si portare a truppe stranei, e per giustare la strada, che si portare a truppe stranei, che si portare a truppe stranei, che si portare a truppe stranei, la bilancia dei pagamenti. Ma, papà, a faremo un contratto con la Svizzera. L'unico fatto è una truppa, e non è per quittare i bus. Non c'è solo i bus da stumper. Mi ha detto che la mia abilità è buona, l'attacca per l'acqua da tutti i cantanti. Troppi fili d'automobile alla mattina e alla sera, in la tangenziera e i caglietti stredi. Gli altri che bisogna, in una fatta maniera, che, basta che dire, infine, un'indiana, un'adriaclete, come tanti formighi. Quando scuriamo appunto la segnaletica, Signor Ministrador, dato che la cornisa bianca la casta in cara poco, bisogna che s'estimere la segnaletica dalle ferie, specialmente nei passaggi pedonali, dove, in dimandichez, a stressi in Svede in più, specialmente in Sira, adesso, che tornello a fumare e ai cagli all'usa, della lunga stredi, troppi incidenti, e, in pezzi, nelle pagine di giorni, bisogna che i mondesi, si possono dire, per strada, e sui marchi a piedi, senza la paura, e per cascare, o deve essere investiti. Anche perché, visto che è moda, se era, avevamo il turismo in crescita, e qui, chi viene da fuori, gli dice tutti, che avevamo una bella città, che si mangia bene, e che noi del mondo, siamo simpatici. allora, dammi la sua tutta mano, vera, per scavalcare l'onda. Fammi lasciare, più bene pulita la nostra città, troviamo una soluzione, per dire averti i negozi dal centro, anche alla festa, e aiutiamo i commercianti in difficoltà, avvlo detto anche l'ampasema, agavamo troppi, vedrai di cui scrive, cessata attività, oppure vendesi, e ne vengo un gran bel veder, per chi gira in via Emilia, o nelle strade adiacenti. assolutamente, che finalmente, hanno sistemato la piazza Massini, però, bisogna ripudere un po', il piazza, che qua c'è la bella facente della sinagoga, e anche in maniera, dalla via Emilia, a tutta la bellezza della piazza. ma io, vedete, la strada luminosa, e i remati, che hanno messo per il piazza e da te, un capo la morte, ormai una bacca verta. ma, ha una bacca propria, e l'era propria bella, l'era propria bella. l'era propria bella, e poi, io ho visto, che in del mercato, e via il Binelli, gli hanno rinnovato la banca del peso. bravi, ma piazza venti, cliva del Vintero, il salò del Bonda, che fino alla fata, anche le, le botteghe di astra, e sempre meno movimento, l'impiesiva, l'impiesiva, di più, quanto a dire, i banchetti ambulati, almeno, la piazza, l'era più fifa, e, ai parevi, neanche, quelle qua, furastera. signor ministradore, car cordero, che piazza venti, le attacca piazza granta, e, e tu resta, i crisi, non cresca per mani un gran bel ricorso, bisogna rilanciarla, investire per il futuro, mettere una fontana, fare un teatro, magari, un monumento a San Dram, ma noi, fare quel, perché se voda, la manda in depresione, sia i bontesi, che i turisti. si ammette, nella e vi, la terapia, l'eve, la vera semia, che al Covid, e alla crisi energetica, i sangi a pelli, nella testa, e anche dal portafoglio, da fuori. Ma adesso bisogna tornare a tirare solo manchi perché noi siamo né Arzane e né a San Femian, una razza che non vola mai. I diesel sempre per due mesi resilienti, tra il computer e l'intelligenza artificiale. E se, papà, al giorno d'incorso il tempo che non c'è un sito o un computer, non c'è proprio nessuno. E se, papà, il sito ha 9,30 a bionchi e le abbastano a nevera colonia. Ma non mi abbastano, non mi abbastano da lavorare. Trovare al computer, anche la che è brisa. La settimana passata io provo a mandare all'anagrafe un stede e famiglia in via telematica. Ma io dovrei sbagliare quello perché al posto del certificato a me rivega una pista a quattro stagioni. con le sgrazie. Dopo me non andavo in fila. All'ampase, a causa della sicilità in campagna, hai amper di man di frutta e tutta l'urtaia. A ieri arriva e non soviva in più che i capelli e mettersi in testa. E invece, quando venga al reddito di cittadinanza, am su un dead affair e hai fatto una start-up che lasciava rima, raccolta, indifferenziata, in modo fatti di abbandonati. A vaga di verso, non quindi lascia in gira anche al street, anche via al motor e ha fatto i ventilatori per sostituire i vintaroli in dai fogoni al bandone. E vabbè, quant'altro che gli ho fatto? Eh, gli ho fatto un bel passo in avanti. a proposito dei monopattini, mi dico ora che i nostri figli, i tacni offertano molti anche a chi va in monopattini e anche in ciclo. Ha il codice stradale, ha il vero perduto dei questi ciclabili, con tutti i soldi che abbiamo spesso per feri, ha il volo in druedi. E i ciclisti, e i monopattisti, bisogna che rispetti le regole anche loro, mingà che a paghere il multi, ma sia sempre soli gli automobileschi. Opa, mostro a chi vuole comprare una città che so che ti appoggi la cucina. Opa, mostro a chi vuole comprare una città più bella. Bisogna fare in maniera che i commercianti o imprenditori abbiano a disposizione gratis di un bel ambiente e tutti qui vivono per fare del bucino che vengono con la bella roba, in maniera che la gente la possa comprare ogni giorno solo per il gusto e il vero. Abbiamo avuto da comprare con il ferro che è dietro a te e ero orgoglioso che quel c'hanno a fare. Eh, ferro, ferro, chi ne ha quattro anni e spera. Ma, scolta, papà, ma non è mica da quel per la ferro che sti per in il Nuoamber, mi è ritrovato, che è in giù da tutta la mano per una festa in dove hanno cantato e ballato per due fila in un capannone di spesso. Se, proprio a lei, ma non è molto bene. I fai vengono di tutto col pericolo che il teccio, che era pericolante al cascato. Eh, bisogna stare attenti a dire che in quel caso che al nostro prefetto la risorta la questione con dal buon senso e modna le stella l'onore dal manco. Signora prefetta, vedete che la gana fa una cacra? La vaga di scalare anche i leder a vedere se si torna l'acqua sua e la smette e nire rubare anche l'altra. Un'edere lavoro campiesse, le leder clavestate a quelle macchine e la polizia ferma in cento. Che sa bolla candega, ma è un sentio sicuro. C'è però, vedete, ma non è il ragazzo. Dovete andare per andare a ballare. A moda i fatti uniti, a gamba il parco Ferrari, che è il più bello posto che sia in Italia per fare i concerti, la musica. E me non so perché i concerti della gaffetta ne sono aperti. Ma a me vuoi ricordare ai nostri amministratori che modna le è la patria del beat e che la Caselli l'equipo 84 perdono i nomadi. e che la tradizione della musica la vuole manchiuda. Ma a me, a me, a te, a me vuoi creare la musica a lei. Come va bene? Anche perché a Degme, se io risolve accattavo un po' per stare insieme, io andrò bene in città a fare la confusione fino ad altre ore dopo la mia nonna. e la saranno dormire i residenti, perché io c'è voi che qui che stanno in via Gallucci e in la Pomposa e vogliono andare a vivere in periferia a vedere se la che vede no a fare un questa. che è il mondo è, a voi da dire, che di cantera modna hanno avvenuto e hanno mancato con la partita del 110 che so quanto è per i più fuori le vinte 110 e l'ote hanno avvenuto in caracca e il palazzo quaccia e che fa un brincio un gran bel vero. Andiamo a scoprire un po' da strada che gli affano a pesca e con e il dolce in fondo al sottopasso di via Panne che prima o poco un po' che non ha tirato se valeva la pena fare e poi e poi la scuola dalla lenta i lavori alle sfonderie e guida il tribunale alla manifattura tabacchi chissà sa che un parola basta per vedere finì ma a voi dire va bene tutto ma i lavori li vogliono fare bene e alla svelta brisa gli sredi e sredi per i mesi e costresano i vudesi a fare il giro dal perdon per andare a lavorare o per arrivare in centro ma guarda questo vulcane c'è e l'ha sredi per fare un prezzo del pavimento e poi l'ha da vero e poi dopo l'ha intorno sredi per fare il secondo pezzo intanto però la sera dal prezzo e allora bisogna che tornino a te e poi faranno il tè spesso sperando che il secondo è il tè a volta insomma l'è tutta andata e la fermata va bene che siamo dato il don ma l'homper proprio la via cru ci serve ma papà la colpa è della burocrazia e anche qui ti fermi nell'amor appena che santerra i cate in un os o un piate in epoca romana o etruscola l'ultima volta gli cerdivano di aver cattato il brillante l'anello di Emilio Lepido invece l'era il culo di un pistone della cruzca beh va bene a sap capire ognuno ha da fare il suo lavoro ma cercare di avere competenza e buon senso ho dovuto dirvi anche che ho vestito del giornale che moda le passate dal quindicesimo posto al decimo posto per la qualità della vita siamo passate davanti ai nostri cosiddetti ma siamo ancora dei dredi dai pranzani e dai pugliesi e per quindi signor sindico ti invoca e da una celereta perchè san mesbali ti è da essere in scadenza ma ti è premendo la serie di lavoro e te l'amico Bologna morto un pepa a siu faneter. Ma c'è? A perdon di un caldo e poi alcuna sei. I mandi clesteggiame a rama a ressuscitare un morto. Bologna han te preoccupè e han sempre detto che s'assera la porta del volti a sverum purtan. Comunque noi del mondo sappiamo chi segue dei miei numeri e chi no. Per quindi ogni cosa ha il suo tempo. Adesso attacca me, ora fa preso. A voi dir che sono con tutti quelli che fa la lotta contro la violenza sulle donne. Menti a sversarire si danni da testa sierta. Le donne non vanno toccate neanche con un fiore. A me si andrò. A sarà anche un bruciò. Ma semmai permesso da me rimanere. Comunque ragazzoni e mamè. Al primo sintomo sia il vostro marì o del vostro compagno. che è una bella denuncia. Un mio ancora. Quando allora. Degdo scalè che prevenire è meglio che curare. Un'eter quel campanile sono fatta. E' la nuova raccolta differenziale. Tutti in te scala e nessun sa niente. Se andiamo avanti a c'è. A scattaranno del valanchio e c'è qui dentro davanti al capo. Signor direi te è vera. Sai chi m'è che gli dei cerri? Al porta a porta. Della telefonè da Bruno Vespa. Vescherò la pagamentà. Ma. Per a me. Lo so. In tram tram. A passi dentro. Tra l'accusa. Al purè. Gli esami al sangue. E i vaccini. Oh. Perché come ha spesso. Qualche conta. Le la salute. L'importante. Che uetra. Assarini. Che arrestori. Le reggitrici. Tlaca. Assam. Alla trainira. Perché. Tubànhana. Alla trainira. Che segnalata. Sedgorti. Per possible. Beh mamma. Adesso. attacca Commerce. Dibosa. Tifosi. Sportivi. Tifosi. Geminiani. E' non solo. Momoi. Quest' nutshell. agn ropeitei. Qui dal ha 100 del calcio. e hanno avuto un'idea strepitosa, da quando siamo qui, hanno cambiato un tempo storico. Al posto di un slain bel giù, i gambe su un caraventino stilizzano, ma che restano i slain dal fratto. Meno male che nonostante il nuovo look, i gioi giallo-blu, i volentieri la bellazza verso il traguardo. E sarebbe anche un bel lavoro che stilessi ad avere la Ferrari, perché in più ultimani, a forza i gambe che stessi fanno, e confusione annurata, i traguer, hanno avuto poco. Basta! Basta! Moda un'altra, Yankatè! Le ora che sarduziamo e cantiamo vensca. Prima però, a desmander un pensiero ai televoteti della Turquia e della Siria. E a tutti i anziani, caldani, ragazzotti e l'Ucraina. Questo è il vero e il passato nel fratto, e con poca maniera, perché i gani vedono i mari al fronte a combattere, e con poca maniera, ma brisa senza la libertà. Sebbiamo, salutiamo, e amatmente, siate resilienti, che a mondo ha voluto dire «Ni vota! E sovratot, nide stretta la piopa! T'l'epoca la piopa è di sacca, che anteni l'ombre che le monta, e glasciava e glasciava! Girolam Teino!